Raga io non saprei come parlare di... Raga io non saprei... Grazie a tutti No Perché la risoluzione bassa Leggermente schiacciata Alla tua In che senso Junior Pada la risoluzione bassa Cosa intendi Gli effetti Scusa Ah gli effetti Non li uso in game Non servono a niente Danno solo fastidio Alla vista Prendete comoda Questa risoluzione Comunque Questa risoluzione Mi è scomparso il pavimento Da sotto i piedi E lui non sparava Cosa dici BKG Dovrei andare in palestra Assolutamente Dovrei andarci Andrai anche tu a Londra Con Etting E Yarl No Loro andano lì Per fare bootcamp Io ancora no Non avendo il compagno Non capisco come fa A volte la gente A colpirmi Invece il pump Il pump Al tattico Preferisco il pump Perché Ha più potere d'arresto Rispetto a un tattico Col tattico Praticamente Giochi per tradare La tua vita Con quello dell'avversario Mentre invece Con il pump Comunque puoi fare Un elevato danno Sfortunatamente Il tattico Non avendo più Il moltiplicatore Dell'headshot A 2.5x Non è più valido Come prima Se avessi avuto ancora Il moltiplicatore Del danno Al 2.5x Come era prima Sicuramente Sarebbe stato Il migliore Come arma Ora Almeno 4 persone Moriranno nella storm Già lo so Rip 20 bomb Peccato Pauri Ho un problema Su Fortnite Sono molto bravo Sia con la mira Che col building Ma non riesco A fare le kill Però Se c'è la buona mira E se buildare Le kill le fai E allora Non sei abbastanza veloce A fare le kill Non è che Non ci stanno Altre cose A meno che Tu non ci stia Dicendo bugie Perché mi sto Teleportando Cosa Penso Il nuovo Cecchino Hai visto Un gameplay Dove sparava I muri Cosa ne puoi pensare Fino a che non lo provi Non puoi pensare Niente Cosa 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 Grazie a tutti Grazie a tutti E' più facile attaccare le clinger E' più facile di quello che pensate Ma sto vedendo il mio minimo Aversi a scatti Forse è la lobby che è un po' in marcia E' più facile attaccare le clinger 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 Complimenti E' più facile attaccare le clinger E' più facile attaccare le clinger E' più facile attaccare le clinger DGVP primo game E' più facile attaccare le clinger